almeno di 500 giorni. E proprio per questo è il coordinamento trentino che abbiamo due ragazze di incontri in tutte le comunità, abbiamo già fatto l'incontro nella buona spiegazione di questi contenuti che speriamo siano il più variati possibili per fare agli atleti. Ne abbiamo tanti anche in questo territorio e stasera avremo questa parte dedicata per l'ospitalità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.